Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, un video un po' ai vecchi tempi Oggi vi porto con me in una giornata di Foss Fishing barra Like Game in generale E penso che questi due pesci insieme in un mio video non l'avete mai visto Prima di partire dunque vi chiedo una piccola cosa di supportare i canali, iscrivendomi al canale Dato che oltre il 70% della gente che guarda i video non è iscritta, cioè il 70% vuol dire tanto Di lasciare un piccolo like e commentate qua sotto con il vostro archavela più grande Dunque non perdo oltre tempo come ho detto prima e vi lascio con il video Dove ho avuto? Dove ho avuto? Dove ho avuto occasione? C'è stata l'attirata? Un'occasione un pezzo Oddio Io no? E' qua davanti La piccolina Ok Lo so una piccola è una piccolina ok è bene giusto perfetto sto guadino il 270 adesso si è incazzata la pizia si è incazzata eccola qua che si è incazzata lei cicciotta mi pareva più piccola che bella cicciotta sta venendo ha un bellissimi colori guarda il preso in punta con il fighty crow e la testina la light game special carpa che gruffola qua sotto riva guardami carpa che gruffola qua sotto riva portati lontano trova il punto piano piano due cori ok spaventata mi sa di sì no ancora là sotto è là sotto che vedi le ondine lo vedo io da qua guarda le ondine guarda le ondine è sulla cannella la testa è sulla cannella che si muove lo vedi la cannella che si muove lo vedo io da qua è là davanti a te mangia sulla cannella si sta spostando verso dove stiamo andando noi più a sinistra destra destra scusa eccolo là visto? si muove da tanto ah quello è me oddio ho sentito quel rumore ho detto no non ho scoppiato il filo non dico perchè io ci ho anche dato il testino in mano sono guadino in eccems dai portala qua tac mi prendo l'esca vabbè abbiamo schiappottato stai fermo qua aspettala sta arrivando verso di qua è anche bello sono due sono due mi perdisci mi riesco a entrare guarda quella qua a destra che sta arrivando giusto qua sotto stai qua aspetta fermo guardala guardala è bella è bella è bella anticipa anticipa vai 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 è qua davanti lo vedo io bene vai 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 anticipa anticipa eccolo te l'ho detto questa è bella questo è buono toni toni buono piccio piccio buono è un buccarello è un buccarello sì servizio 2,70 è perfetto questo forse dai more vieni qua dai su dai finì adesso a fare la munguia adesso ti parti ti sei proprio una munguia ma è carina ma è carina due piedi fa puoi pesarla ah no ce l'ho in macchina no questa è tre due e mezzo tre si no anche più vicino presa buona 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 vai, vai preso preso, bello dai ecciano bel pesce quella nuova Wild Spirit e il Dark 2000 eccolo qua piano piano vai grande vediamo di fare doppietta bello 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 lascialo andare in acqua lascialo andare in acqua vai vai 5-6 kg 5 kg forse non ci voglio andare a prendere la bilancia in macchina non l'ha dotato praticamente un caffè lo so infatti ho fatto anche un attimo con calma in modo che me la stancassi ma tu si munghi no paura fai l'attività non no non 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 Grazie a tutti.